Conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. No, non ci crederanno, siamo in missione per conto di Dio. Luce diceva dai aspettiamoli Prendi il profilo di Carmine Siamo in missione per conto di Dio A posto 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 Grazie a tutti.